Siamo alla Beato Padre Pio Petrarca di San Severo, anche quest'istituto partecipa alla giornata dell'albero, è un'attività sicuramente importante, i ragazzi stanno piantumando adesso nei giardini, per i ragazzi è fondamentale, noi iniziare già da piccoli. Sì, diciamo che è una festa alla quale abbiamo partecipato anche l'anno scorso, dove eravamo ospiti alla Petrarca e quest'anno abbiamo deciso di farla qui, avendo anche noi la possibilità di piantare degli alberi, avendo una bella disponibilità di un bel giardino e d'accordo con questa associazione abbiamo preparato già da qualche giorno il lavoro con i ragazzi, compreso la pulizia del giardino, e molto entusiasti, non vedevano l'ora che arrivasse questo giorno. Abbiamo avuto delle bellissime giornate di sole, oggi il tempo ci sta facendo lo scherzetto, ma sicuramente non sarà un problema, non riuscirà a fermarci. La piantumazione di un paio di querce e altri cespugli, dove i ragazzi nei prossimi anni, quando diventeranno genitori, accompagneranno i loro figli in questa scuola e diranno abbiamo piantato noi quest'albero. Viva la luce!